buongiorno e buon giovedì allora pollicione se volete iscrivervi ringrazio attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono commento e sostengono questo canale ragazzi su ho bisogno del vostro aiuto per arrivare a 5.000 coinvolgete tutti quelli che potete grazie ancora oggi è il giorno delle ricariche cercherò di essere veloce anche perché ho qualche impegno e proprio perché non voglio tediarvi cominciate a controllare nel primo pomeriggio sperando che si torni a quello che si faceva tre mesi fa perché negli ultimi due mesi avete visto che hanno caricato quando cavolo hanno avuto voglia due mesi fa addirittura alle sette di sera il mese scorso alle 5 tra l'altro con poche scusanti considerato che ci sono pochi ricariche da fare sono sempre meno e stanno partendo altri sms con le sospensioni e merita questo alcuni mi hanno detto di messaggi di sospensione arrivati prima delle lavorazioni con cause ben specifiche però ecco in quel caso dovete andare assolutamente all'imps assolutamente perché se si vuole almeno tentare di rimediare al problema bisogna effettivamente capire qual è la situazione all'imps cioè quei informazioni hanno e come si può fare per ovviare la cosa altra cosa quindi appena le vedete comprare avvisate me avvisate elena avvisate radio ucci avvisatemi stellore avvisate chi volete di quelli di cui vi fidate altra cosa sì il governo ha varato il decreto dei bonus ormai con quello vanno avanti gli 80 80 100 euro di cui non sia benissimo chiaro quale sia la cifra che andranno sulla carta dedicata a te gli altri si attaccano il bonus energia che viene prorogato fino alla fine dell'anno ma non è più il bonus energia vecchio cioè non ha più i valori del tempo del contributo del governo draghi è più basso e ve ne accorgerete comunque in bolletta perché le di sistema sono stati fatti comunque rientrare scusate di là stanno facendo di là intendo i gatti stanno facendo un disastro e il bonus trasporti sarà aumentata la cifra disponibile sì ma rimane sempre il fatto che è un bonus sul chi prima arriva prima meglio alloggia e quindi alla fine ogni volta quindi il primo ottobre adesso non so se sarà il primo ottobre il 2 ottobre perché il primo ottobre la domenica appena sarà attivata ci sarà la corsa la prenotazione quindi se esaurirà in fretta il bonus spesa come vi ho detto cioè il famoso blocco dei costi degli alimenti che tra l'altro da quello capito è il 10 per cento quindi non andrà effettivamente a incidere chissà quanto della cifra visto quanto sono aumentati in questi mesi vabbè riguarda chi c'è soldi da spendere chi non c'è soldi da spendere si attacca comunque quindi boh e si va avanti con queste con questo governo di pagliacci che non è capo di coda e per chiudere voglio essere specifico è chiaro siccome c'è un canale che sta parlando sta pompando la questione dell'eredito di base europeo dicendo che come c'è stata una manifestazione a bologna di cui ho parlato anche nei video di ieri e una manifestazione una associazione a bologna che adesso questa associazione è una piattaforma ecco per ora di tutto quello che viene detto c'è zero c'è zero è un'iniziativa per sensibilizzare il problema non è una presa di posizione del governo non è una presa di posizione dell'europa che tendenzialmente a parole fa tanto ma di fatto è disunita su tutto e quindi prendete queste cose con le dovute precauzioni con le dovute pinze ma pinze lunghe da qua fino alla luna perché se ci fosse qualcosa di concreto sarei il primo a parlarvi ma di concreto c'è zero un'iniziativa di una associazione privata è un' iniziativa di una associazione privata e basta che non potrebbe anzi quasi sicuramente sarà ignorata ignorata sicuramente dal governo italiano perché hanno le pezze hanno le pezze al culo non sanno come fare la finanziaria sono sono lì che si arrabattano adesso a dicembre scadrà il cuneo fiscale e dovranno rifinanziarlo forse se non possono rifinanziarlo si trova come prima gli aumenti delle pensioni ve l'ho detto sono ridicoli e soprattutto non toccano i pensionati invalidi parziali i pensionati al minimo che vengono lasciati lì da soli con tre secondo loro con 320 euro circa di pensione di invalidità parziale ci campi considerando che una persona che ha invalidità generalmente dei costi aggiuntivi cioè diciamo la realtà ve l'ho detto io vi dico la realtà poi se uno vuoi seguire le illusioni io non è che gli corro dietro dico solo attenzione attenzione che non è con le illusioni non si pagano le bollette per il resto ragazzi niente io spero che domani vada tutto liscio non ci siano intoppi il 28 quasi sicuramente partiranno invece le lavorazioni del dell'assegno unico su rdc che ricordatevi è relativo al mese passato si prende a settembre quello di agosto e chi si trova appunto nella condizione di sospensione sa sicuramente che non ne cava niente comunque faccia la domanda dell'assegno unico ecco visto che l'assegno unico poi fino a 21 anni quindi ecco stato un attimo stato un attimo presenti attenzione ad ascoltare promesse che obiettivamente non si possono ancora realizzare io sarei il primo ad essere contento di una misura di sostegno economico contro la povertà a livello europeo che sia vincolante per ogni stato il problema che per ora non c'è per ora non c'è per ora c'è solo una raccomandazione che non ha non è vincolante per nessun caso e quindi detto io non sono non sono ottimista in questo senso e spero sinceramente di essere smentito i fatti ma quando uno è fissato quando uno è radicalizzato da questo punto di vista questi qua sono i risultati un governo che ha sbagliato tutto quello che ha fatto che poi pubblica un libro in cui si auto celebra non aveva fatto neanche il fusilio ciao a tutti e quindi